Yu-Gi-Oh a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un opening molto particolare di un prodotto mai arrivato in Italia. Il Link Reigns Duellist Set, uscito il 31 agosto 2019. Trattava di uno dei prodotti per festeggiare il ventesimo anniversario. Ovviamente questo non è il più importante e non è l'unico. Ma detto questo, prima di iniziare, vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da JackStore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link per supportarlo qua sotto in descrizione. In più vi ho lasciato anche un codice sconto del 5%, nel caso vi interessasse comprare qualcosa. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate anche Instagram in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, procediamo con l'unboxing. Ognuna di queste confezioni contiene un pacchetto speciale Link Brains e ogni busta contiene 9 carte ultra rare e una Secret. E la Secret può essere qualsiasi delle carte ultra rare. In più abbiamo un pacchetto per potenziare il nostro mazzo, ovviamente ci saranno probabilmente dei Link o delle carte che si collegano bene coi Link, e all'interno di ognuno di questi avremo 5 carte super rare su un totale di 10. In più ovviamente ci saranno altre robe dentro, ma non ve le vado a spoilerare, le andremo a vedere insieme. Allora, andiamo ad aprire il prodotto, che anche questo è senza carta Konami, quindi possibilità di scam molto alta. Però, vabbè, oramai è andata così. Allora, c'è più plastica che carta qua dentro. Abbiamo 3 pacchetti, probabilmente ho tradotto male l'inglese, e sono un pacco di sleeve queste. Ah, ecco cosa voleva dire quella frase. Bene, partiamo subito andando a vedere come sono le sleeve, perché sono molto curioso a questo punto. Belle! Ma sono un botto da mare! Sembrano le sleeve che trovi su Wish, ma fatte meglio. Ci sta? Ovviamente, ragazzi, bisogna mettere le oversize sopra sta roba, perché altrimenti credo che la pellicola si stacchi, perché se sono come quelle di mamma siamo messi molto bene. Ragazzi, peggio di quelle di mamma non c'è niente. Lì perfino la stampa era fatta male. Parliamone. Allora, abbiamo... Ah, ok. Bene, ora capisco anche l'altra frase che era scritta su Wikia, ovvero il fatto che all'interno ci stanno dei field center. Allora, io partirei per primo dal pacchetto Link Brains, e ci teniamo questo per ultimo, visto che, nel pratico, non ci siamo spoilerati cosa c'era dentro. Allora, all'interno di questa confezione dovremmo avere supporti Team Dungle, Code Talker, Salamangreit, Borrell, Marinsess, Dino Ressler, Trickstar e Altergeist. E, vabbè, abbiamo trovato il primo code. Ecco il supportino, che, vabbè, da noi è anche già uscito. Il prodotto è un pochino vecchio. Allora, poi abbiamo la Secret, ce la siamo subito spoilerata. Ecco, il Bruto. Eccolo qua che carino. Tanta roba la filatura. Sembra il nostro MP19. Poi abbiamo Salamangreit Blitz Dragon. Poi Bayonet Punisher, se non sbaglio, sì. Poi Trickstar... C'è carta Trickstar, ragazzi. Poi carta Marinsess, se non erro, è Pasculus. Poi carta Gowki. Carta Dino Ressler. Carta... Carta Altergeist. E questa è Paleover, se non sbaglio. E, vabbè, il mazzo dei triangoli, ragazzi. Carta... Carta triangolo. Dai. Allora, andiamo col prossimo pack e vediamo effettivamente cosa riusciamo a trovare. Perché abbiamo 5 possibilità su 10 per le super. E spero tanto che... Le carte siano buone, eh. Allora, non spoileriamocele subito. E andiamo a vedere. Abbiamo carta Trickstar, subito. Così, la trappola. Quindi abbiamo Reincarnazione Trickstar. Carta Dino Ressler. Poi Santuario Salamangreit. Molto bellino. Super raro. Poi carta Marinsess, che questa è mia madre Anemone, ovviamente. Poi abbiamo, vabbè, un cazzo di pixel e basta. Una fonte molto attendibile, tipo Wikia. Mi sta dicendo che all'interno potevo trovare anche Talker, che non era male. Boris World Dragon, che non era male. Poi vabbè, roba Goti, la carta triangolo e un Altergeist. Te dirò. 2 su 4 mi sarebbe piaciuto trovarle, ma vabbè, è andata così. Allora, torniamo adesso Seri e andiamo ad aprire il Field Center. E vediamo effettivamente cosa riusciamo a trovare. Perché sono molto curioso. Uh, sembra interessante, cazzo. Ma è trasparente? Ma è molto più resistente di quelli nostri. È de plastica. Non è de carta. Nooo. Nooo, ragazzi, è senza senso. Col cazzo che uso quelli nostri. Ma questo manca come se rovina, ma che cazzo me ne frega. Konami TGC impara un po' a i Field Center. Che io voglio una roba del genere. Ma che cazzo me dai quelli de carta? Top, è veramente figo. Con quello che ho pagato il prodotto, cioè, i soldi valgono tutti solo per questo. Se non erro, ragazzi, l'avrò pagato una cosa come 15 euro. E mi hanno dato un pacco di sleeve fighissime. Fighissime, vabbè. Poi, il Field Center de plastica. E poi, vabbè, i due pacchettini così onesti. Per avere c'è un po' di roba giapponese, ma vabbè, sti cazzi. Alla fine, con quello che mi è costato, va più che bene. Anzi, prodottone promosso. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di queste opening OCG. Le volete o no? Perché vi dico, io ho d'occhiato delle robe su Amazon Japan senza senso. Quindi, se volete che questa serie continui, un bel like se arriviamo a 100. Settimana prossima vi porto un altro prodotto e vi faccio scegliere tra World Premiere 2019 o Animation Chronicle 2022, se non sbaglio. Detto questo, ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!